Carissimi fagnanesi, buongiorno, faccio questo video per entrare un po' a gamba tesa sulla questione dei medici di base che proprio oggi è venuta al suo apice con l'articolo uscito sulla prealpina per quanto riguarda gli insulti razzisti all'autora Envolo. Prima di tutto devo dire che sono stato direttamente dal dottore per portare la vicinanza dell'intera amministrazione e della comunità fagnanese, non saranno due o tre commenti sui social di tipo razzisti a etichettare il nostro paese e tutti i nostri concittadini, siamo vicini e chiediamo scusa se questi commenti possono aver turbato il lavoro e la vita privata di questo professionista. Dopodiché bisogna anche dire questo, il dottor Envolo è presente sul nostro territorio chiamato a lavorare per sostituire il dottor Navarra che ha dedicato la sua vita all'operato di medico. Il dottore però per operare sul nostro territorio deve avere tutti i mezzi necessari per farlo nel migliore dei modi. In questo momento questi mezzi non ci sono e il dottore anche per una serie di problematiche vuole lavorare fuori dal nostro territorio. Mi sono impegnato direttamente, pur non essendo questo un compito dell'amministrazione comunale o del sindaco per vedere di alleviare queste problematiche, anche e soprattutto sull'invito di tanti fagnanesi e di tanti pazienti sul territorio che hanno chiesto un interesse in prima persona da parte dell'amministrazione comunale e del sindaco. Ho sollecitato i vertici di ATS per un incontro insieme al dottor Envolo per trovare tutte le soluzioni che possano permettere al dottore di operare nel pieno delle sue capacità sul nostro territorio. Faccio presente a tutti i cittadini che per qualsiasi bisogno e qualsiasi problema potete contattarci e fermarci anche per strada per chiedere di operare nel meglio per la soluzione di questi problemi. Grazie a tutti e buona giornata!